Benvenuta, Cancelliera Merkel. E' da anni la vera padrona di questa Europa, dominata dagli interessi tedeschi, costruita su misura per favorire la Germania a fossare l'Italia. In questi anni avete massacrato l'Italia con l'austerity, avete riempito il nostro paese di immigrati clandestini, ci avete imposto governi mai eletti da nessuno, da Monti a Conte, pronti ad obbedire ai vostri ordini. E oggi ci volete imporre l'ultima grande fregatura chiamata Messe, per mettere l'Italia sotto la soveglianza rafforzata di Bruxelles. Cancelliera Merkel, ma chi vi dà il potere di calpestare gli italiani, la democrazia e la sovranità del nostro popolo? Gli italiani non vogliono l'emosina di Berlino o di Bruxelles. Gli italiani vogliono semplicemente indietro i loro soldi, soldi veri, come i 100 miliardi di euro che l'Italia ha regalato all'Europa negli ultimi vent'anni. Noi vogliamo indietro i nostri soldi, perché abbiamo il dovere di salvare la vita di milioni di italiani e la vita di milioni di imprese di fronte alla crisi economica del coronavirus. Le auguro buon lavoro, Presidente Merkel, ma si ricorda che in Italia comandano i cittadini italiani, non i tedeschi. La nostra libertà e la dignità del nostro Paese non sono in vendita, né ora né mai.